Ciao amici, ciao a tutti, vediamo oggi di nuovo degli esercizi per tonificare i nostri glutei e le nostre gambe, Energy Medium Fitness con il preziosissimo aiuto delle pattine della nonna, queste qua, quelle che abbiamo tanto usato per non sporcare il pavimento, comunque quando si arriva a casa con i piedi bagnati dopo la pioggia. Abbiamo già precedentemente visto dei video con esercizi per i glutei e pattine in versione facilitata, quindi con l'appoggio alla parete o se preferiti con una sedia, invece questa volta li vediamo in forma assolutamente libera, quindi andiamo a mettere alla prova un pochino di più la nostra stabilità. Bene, buon divertimento, buon allenamento, buona tonificazione dei vostri glutei. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!